sapete dove ci troviamo nei pressi del municipio di augusta siamo nella via principale del centro storico e cioè la via principe omberto che potrebbe essere ormai denominata via federico secondo ma questo è un altro discorso siccome le persone ci hanno fatto segnalare noi siamo pure i cittadini di augusta ce ne accorgiamo guardate un po' le strisce medonare in che condizioni sono ma questo da anni e non soltanto qui ma anche altrove addirittura ci sono angoli incroci in cui le strisce non ci sono proprio è costoso costosissimo rifare queste strisce con un po di bianco quando poi altrove per esempio noto queste strisce sono realizzate con colori che sono già dentro le mattonelle cioè i san pietrini sono già colorati addirittura adesso non sono più nero sono i colori rosso e bianco pensate no nei san pietrini questo perché rosso e bianco per dare maggiore risalto questa è la condizione nei pressi del municipio domando e ripeto la domanda veramente è costoso rifare questo anche per dare un minimo di dignità di decoro a queste città grazie a tutti grazie a tutti